Climbing Radio è lieta di presentare conversazioni al popolo arrampicante, uno sguardo a 360 gradi su alpinismo, arrampicata e non solo, a cura di Eugenio Cipriani. Buongiorno popolo arrampicante. Oggi toccheremo un argomento difficile, duro, inquietante. Un argomento che anche noi scalatori, egoisticamente presi dai nostri progetti e centrati anima e corpo nella nostra passione, preferiamo, chi più chi meno, mettere in un angolo, non pensarci, limitandoci ad affermare, quando viene fuori in qualche discussione, eh sì, è proprio un bel problema. Così, tanto per essere politicamente corretti. Sottintendendo che ci pensino altri a risolverlo, io intanto arrampico. Invece è un argomento che ci tocca da vicino per un'infinità di aspetti, parte dei quali, le frane ad esempio, abbiamo già esaminato in precedenza. Ma il riscaldamento globale, perché di questo che parleremo oggi, è soprattutto un argomento che rischierà prima o poi di toccarci tutti, di toccare tutta l'umanità, vecchi e bambini, donne e uomini, tutti. Anzi, saranno propri bambini, i nostri figli e i nostri nipoti, quelli che dovranno fare i conti da adulti, con i nostri comportamenti attuali, con quello che oggi stiamo facendo e soprattutto con quello che oggi non stiamo facendo per evitare la catastrofe. Tranquilli, va da sé che non sono qui per fare la Cassandra e nemmeno per fomentare pessimismo. Tuttavia, di fronte agli occhi di tutti che manca un'intesa planetaria per la salvaguardia del pianeta. A poco serve protestare nelle piazze europee e statunitensi, se poi paesi immensi come Russia e Stati Uniti stessi e altri sovrappopolati come Cina, India, Pakistan, Brasile, sono in mano a classi politiche che fanno orecchie da mercante nei confronti dell'emergenza climatica. Occorre un deciso cambio di rotta che, al momento, appare ancora lontano e improbabile. Improvabile almeno sino a quando le lobby del petrolio e dei combustibili fossili continueranno a dettare legge condizionando la politica energetica. E non solo quella. La tendenza sembra essere quella di sfruttare sino all'ultimo le risorse energetiche non rinnovabili e solo a scorte esaurite o in via di esaurimento iniziare a prendere provvedimenti investendo in maniera massiccia in energie alternative, rinnovabili e a basso, se non nullo, impatto ambientale. Risorse che al momento sembrano essere solo l'eolico e il fotovoltaico. Peccato però che, oltre alle risorse, si stia consumando anche il tempo a disposizione. E il tempo, purtroppo, è una risorsa non rinnovabile. O meglio, il tempo è la risorsa non rinnovabile per antonomasia. Nei milioni, anzi miliardi per l'esattezza 4,3 miliardi di anni della storia del nostro pianeta, la Terra ha subito straordinarie variazioni climatiche, durante la maggior parte delle quali la presenza umana non esisteva o, se era presente, non influiva minimamente sulla biosfera. In tutte quelle circostanze il pianeta è diventato, a volte in maniera abbastanza repentina, climaticamente inospitale. Al momento non sappiamo con assoluta certezza se il riscaldamento climatico che si sta verificando su scala globale sia un fenomeno naturale o fortemente indotto dall'uomo. Probabilmente tutte e due le cose. Di recente mi sembra, però, che il mondo scientifico sia quasi all'unanimità propenso verso la seconda ipotesi. Sappiamo con certezza che stiamo emettendo nell'aria sostanze tossiche, inquinanti, gas serra. E con altrettanta certezza sappiamo che procedendo di questo passo arriveremo a un punto di non ritorno, oltre il quale potremo attribuire la colpa non più al caso o alla natura, ma solo ed esclusivamente a noi stessi. Prevenire, si sa, è meglio che curare. Specialmente se la malattia e il nostro pianeta è innegabilmente malato, ha un decorso in senso negativo non solo rapido, ma soprattutto incontrollabile e drammatico. Voglio leggervi, riassumendola perché è molto lunga, la traduzione di un testo di un autore britannico e accademico specializzato in cambiamenti ambientali presso l'Università di Leiden, Paul Behrens. Un testo basato sulle più recenti ricerche elaborate da scienziati dell'IPCC, l'Osservatorio Intergovernativo sul cambiamento climatico. In merito a ciò che potrebbe accadere al nostro pianeta se, continuando a comportarci come se nulla fosse, in gergo viene definito business as usual, cosa potrebbe accadere, dicevamo, se la temperatura media globale sia dell'atmosfera che delle acque dei mari salisse gradualmente da 1 a 6 gradi, in più di quella attuale che è già di almeno 0,5 gradi sopra il cosiddetto optimum climatico. I panorami descritti sono assolutamente sconcertanti, al punto da apparire quasi inverosimili. Sembra i fatti di leggere il canovaccio di un libro di fantascienza o la trama di un film catastrofico hollywoodiano. Si dà il caso, però, che gli scienziati autori della ricerca non siano scrittori di fantascienza e che quel che descrivono si regge su modelli di calcolo basati non solo su quanto sta accadendo attualmente, ma anche su ciò che è accaduto nel corso delle ere geologiche passate. Parafrasando una celebre frase di Primo Levi, contenuta nel romanzo I sommersi e i salvati, possiamo dire, queste cose sono accadute in passato, potrebbero accadere di nuovo. E grazie a Paul Behrens esamineremo oggi questi salti progressivi di temperatura ipotetici, ma probabili, uno alla volta. Vediamo quindi cosa potrebbe accadere se la Terra si scaldasse da 1 a 6 gradi più della media attuale. Ecco cosa scrive Paul Behrens sulla scorsa appunto di ricerche scientifiche. Anche se riuscissimo a far cessare da stanotte stessa le emissioni di gas serra, le concentrazioni già presenti nell'atmosfera comporterebbero comunque un aumento globale tra 0,5 e 1 grado. L'aumento di un singolo grado di temperatura è appena percettibile dalla pelle umana, quasi irrilevante. Ma non è della pelle umana che stiamo parlando, quanto è piuttosto della pelle del nostro pianeta. E un aumento medio di un grado su tutta la sua superficie significa enormi cambiamenti. 6.000 anni fa, quando il mondo era più caldo di un grado rispetto a oggi, il cuore agricolo americano intorno al Nebraska era un deserto. Poi le cose cambiarono, ma durante il periodo del Dust Bowl, negli anni 30 del secolo scorso, quello descritto dal grande scrittore statunitense John Steinbeck, nel romanzo tradotto in italiano col titolo Furore, il titolo originale suonava The Grapes of Wrath, l'ira dell'uva, il suolo venne trasformato in polvere e soffiato via dal vento. Centinaia di migliaia di rifugiati si trascinarono attraverso la polvere a cercare un'incerta salvezza più ad ovest. Comprendere l'effetto del riscaldamento di un grado, quindi, non richiede grande sforzo d'immaginazione. Basta leggere Steinbeck. Gli Stati Uniti occidentali potrebbero nuovamente soffrire di siccità, ma questa volta di siccità perenni, molto peggio che negli anni 30. Ciò che è male per l'America sarà peggio per i paesi più poveri e più vicini all'Equatore. È stato calcolato che un aumento di un grado, di un solo grado, quindi ci siamo vicini, eliminerebbe entro il 2100 l'acqua dolce di un terzo della superficie terrestre. Se oggi le terre tropicali sono prossime al tracollo, l'Artico rischia seriamente di essere vicino al punto di non ritorno. Il riscaldamento nelle zone prossime al polo è molto più veloce della media globale, con il risultato che le calotte glaciali e gli acciai dell'Artico hanno perso 400 chilometri cubi di ghiaccio in 40 anni. Il permafrost, terreno che è rimasto ghiacciato per migliaia di anni, si sta dissolvendo, trasformandosi in fango e laghi, destabilizzando intere aree, mentre il suolo collassa sotto edifici, strade, condutture. Una precoce fusione delle nevi significa che d'estate sia l'aria che il suolo si fanno sempre più caldi e questo aumento genera a sua volta un effetto impositivo sulle temperature. Inoltre, la maggior presenza di arbusti e foreste sulla tundra significa che ancora più calore viene assorbito dal terreno, precedentemente riparato dal ghiaccio che col suo effetto riflettente, l'effetto albedo, restituiva all'atmosfera i raggi del sole. In mare il ritmo del riscaldamento è ancora più veloce. Mentre il ghiaccio coperto di neve riflette oltre l'80% del calore del sole, l'oceano più scuro assorbe fino al 95% della radiazione solare. Una volta che il ghiaccio marino inizia a sciogliersi, il processo diventa autorinforzante e l'aumento di temperatura esponenziale. E' quello che sta già succedendo. Anche le montagne con un grado di temperatura in più iniziano a sfaldarsi e lo stiamo vedendo estate dopo estate. Nelle Alpi la maggior parte del terreno sopra i 3000 metri è stabilizzata dal permafrost e le pareti di roccia lo sono grazie al ghiaccio al proprio interno. Nelle ultime stati la zona di fusione è rimasta più settimane oltre i 5000 metri, quindi ben più in alto della vetta del Monte Bianco. Il gelido collante che da millenni teneva assieme le rocce ha iniziato a fondersi e le pareti a franare in maniera e in numero mai registrati prima. Se le temperature continueranno a salire non saranno solo gli alpinisti a dover fuggire dai monti. Intere città e villaggi saranno a rischio. Alcune città come Pontresina nella Svizzera orientale hanno già iniziato a costruire baluardi contro le frane. Serviranno? All'estremità opposta, a tolli bassi come le Valdive si preparano a scomparire a causa dell'innalzamento del livello del mare e le coste continentali, in particolare gli Stati Uniti orientali al Golfo del Messico, le isole dei Caraibi e del Pacifico, la Baia del Bengala, saranno colpite da uragani sempre più forti mentre l'acqua continuerà a scaldarsi. Possibilità di evitare un grado di riscaldamento globale? Ormai queste possibilità sono praticamente zero. Veniamo allo scenario tra 1 e 2 gradi di riscaldamento. A questo livello, previsto entro 30 anni, le estati con zero termico prolungato, oltre i 5.000 metri di quota, saranno la norma. Anche negli anni con temperature definibili come medie, le persone moriranno di stress termico. Come si manifesta lo stress termico? I primi sintomi sono di piccola intensità. Nausea leggera, irritabilità, attacco di vertigini. Non è necessariamente una situazione di emergenza. Un'ora o giù di lì, in una zona più fresca e possibilmente sorseggiando acqua, basta curarla. Ma quando la temperatura corporea sale a causa della temperatura esterna, che non accenna a scendere, il sistema termoregolatore si guasta, la sudorazione cessa e la respirazione diventa superficiale e rapida. Il polso accelera e la vittima può andare in coma, a meno che non vengano prese misure drastiche per ridurre la temperatura interna del corpo. Il cervello entra in carenza di ossigeno e gli organi vitali iniziano a non funzionare più. Sarà morte certa nel volgere di poco tempo se la vittima non verrà prontamente ricoverata in terapia intensiva. Bisogna però che le vittime non siano troppe e soprattutto che non vadano in crisi tutte insieme contemporaneamente, come è accaduto ad esempio col Covid o come accadde in Francia, nella famigerata estate del 2003, allora quando migliaia e migliaia di francesi non furono presi in tempo e morirono. Persino le camere mortuarie esaurirono lo spazio dopo che per più notti arrivarono negli ospedali della città centinaia e centinaia di cadaveri. Secondo il centro Edleigh, uno dei principali centri del Regno Unito per lo studio di tutti gli aspetti scientifici associati al riscaldamento globale, più della metà delle stati europee entro il 2040 sarà bollente. Dalle foreste di betulle del nord Europa, alle querce sempreverdi del Mediterraneo, la crescita delle piante su tutta la massa terrestre si rallenterà sino a fermarsi. Invece di assorbire l'anidride carbonica, le piante stressate inizieranno a emetterla. Se queste emissioni avvenissero per lunghi periodi, il riscaldamento globale potrebbe entrare in una spirale fuori controllo. Nel mondo a due gradi più degli attuali, nessuno penserà più andare in vacanza nel Mediterraneo. Anzi, in tutto il mondo ci si penserà due volte prima di andare al mare in qualsiasi località. Probabilmente ci si penserà due volte prima di andare in vacanza in qualsiasi luogo. Quando circa 125.000 anni fa le temperature erano tra uno e due gradi più elevati di adesso, i livelli del mare erano più alti di cinque o sei metri. Tutta quest'acqua persa, diciamo così, si trova nel ghiacciaio polare che ora si sta sciogliendo. I meteorologi prevedono che il punto di non ritorno per la Groenlandia non arriverà fino a quando le temperature medie non saranno aumentate di 2,7 gradi centigradi. Ah, bene, c'è tempo allora, no? No, non c'è tempo. No, perché la Groenlandia si sta riscaldando molto più velocemente rispetto al resto del mondo, 2,2 volte la media globale. I ghiacci della Groenlandia entreranno in una fase di fusione irreversibile, se già non vi sono entrati. Una volta che le temperature globali saliranno oltre i soli 1,5 gradi centigradi. Il conseguente aumento del livello del mare sarà di gran lunga superiore al mezzo metro che l'IPCC ha previsto per la fine del secolo. Il ghiaccio della Groenlandia si sta assottigliando e scorre molto più velocemente di quanto dovrebbe e l'intera sua calotta glaciale potrebbe svanire entro 120-140 anni. Di conseguenza si alzerebbero le acque dei mari. Addio Venezia, addio Ravenna, ma addio anche ai Paesi Bassi e alle lunghe e piatte coste del mare del nord. Anche Miami scomparirebbe, così come la maggior parte di Manhattan. Il centro di Londra sarebbe allagato, Bangkok, Bombay e Shanghai pure. Quasi metà della popolazione mondiale dovrebbe trasferirsi in zone più elevate. Ma non soffriranno solo le comunità costiere. Man mano che le montagne perderanno i loro ghiacciai, verranno meno di riserve d'acqua. Il loro deflusso cesserà di alimentare i grandi fiumi che forniscono acqua dolce, risorsa vitale per centinaia di milioni di persone. Ne conseguiranno carenza d'acqua, energia, carenza di energia e carestia. Ovunque gli ecosistemi si disferanno mentre le specie migreranno senza riuscire a sincronizzarsi l'una con l'altra. Quando le temperature globali raggiungeranno i due gradi di riscaldamento, continuando così all'incirca intorno al 2050, oltre un terzo di tutte le specie viventi dovrà fare i conti con la possibilità concreta di estinguersi. Possibilità di evitare due gradi di riscaldamento globale? 93%, ma solo se le emissioni di gas serra saranno ridotte del 60% nei prossimi dieci anni. Tra 2 e 3 gradi di riscaldamento. Fino a questo punto, al di fuori delle regioni subtropicali, non saranno in molti a morire di fame. Oltre i due gradi di riscaldamento medio globale, però, le cose cambiano. Da prima milioni e poi miliardi di persone dovranno affrontare una battaglia sempre più dura per sopravvivere. Per trovare qualcosa di paragonabile, dobbiamo tornare al Pliocene, cioè all'ultimo periodo dell'era terziaria, circa 3 milioni di anni fa. Non c'erano ghiacciai continentali nell'emisfero settentrionale, tanto che gli alberi crescevano nell'Artico e il livello del mare era 25 metri più alto di quello di oggi. I mari non rimarranno inerti quando le loro temperature aumenteranno, ma reagiranno, in realtà stanno già reagendo, e questa reazione innescherà a sua volta altri fenomeni. Mari più caldi degli attuali, infatti, assorbirebbero meno in idride carbonica, che andrebbe ad accumularsi nell'atmosfera intensificando il riscaldamento globale. Sui continenti le cose sarebbero ancora peggio. Enormi quantità di carbonio, costituite dai resti marcescenti di vegetazione morta, sono immagazzinate nel terreno. Si stima che il suolo racchiuda circa 1600 gigatonnellate di carbonio, praticamente più del doppio dell'intero contenuto di carbonio dell'atmosfera. Mentre il terreno si riscalda, i batteri accelerano la degradazione di questo carbonio immagazzinato, rilasciandolo nell'atmosfera. Insomma, con un aumento di 3 gradi, possibile già nel 2050, secondo lo scenario peggiore, si rovescerebbe il ciclo del carbonio, dal momento che invece di assorbire l'anidride carbonica, vegetazione e suolo la rilascerebbero, e il carbonio riversatosi nell'atmosfera, entro il 2100 arriverebbe a concentrazioni atmosferiche di 250 parti per milione, aumentando il riscaldamento globale di altri 1,5 gradi centigradi. Attenzione, non stiamo parlando di un futuro lontano. Stiamo parlando di una scadenza il 2100 alla quale potrebbero giungere benissimo i nostri nipoti, se non addirittura i nostri figli. La fine del mondo a questo punto, almeno per noi umani e per gran parte delle specie vivente, si farebbe sempre più vicina. La conferma di ciò è arrivata dalla Terra stessa. I modelli climatici vengono regolarmente testati sulla base di dati storici. In questo caso, gli scienziati hanno controllato 25 anni di campioni di terreno da 6.000 siti in tutto il Regno Unito e hanno scoperto che, mentre le temperature aumentavano gradualmente, enormi quantità di carbonio venivano poco a poco rilasciate dai suoli. Dopo aver esaminato tutti i dati, hanno scoperto che, ironia della sorte, le 13 milioni di tonnellate di carbonio che i suoli britannici emettevano ogni anno, erano sufficienti a venificare tutti gli sforzi fatti dal paese per conformarsi al protocollo di Chioto entrato in vigora nel 2005. Tanta fatica per nulla, insomma. Tutti i suoli saranno influenzati dal calore crescente, ma nessuno subirà conseguenze tanto negative quanto la foresta amazzonica. Catastrofe è una parola quasi troppo piccola per la perdita della più grande foresta pluviale del mondo. I suoi 7 milioni di chilometri quadrati producono il 10% dell'intera produzione fotosintetica mondiale. Siccità e calore la paralizzeranno, questa produzione fotosintetica, e poi il fuoco finirà l'intera foresta amazzonica. In termini umani, l'effetto sul pianeta sarà come tagliare ossigeno a un malato durante un attacco di asma. Negli Stati Uniti e in Australia, la gente maledirà coloro che hanno governato infischiandosene del clima e dei suoi cambiamenti. Tutto ciò che verrà fatto successivamente, infatti, non sarà più sufficiente. Con i nuovi super-uragani di grado 5, cioè catastrofico, come quello che ha recentemente colpito Acapulco, con i nuovi super-uragani che crescono dal mare in fase di riscaldamento, un'infinità di luoghi e città prima fra tutte l'Australia potrebbe diventare per uomini, piante e animali una trappola mortale. L'agricoltura e la produzione alimentare declineranno in maniera irreversibile. L'acqua salata si insinuerà nei fiumi colpiti avvelenando le acque sotterranee. Ricordiamo che questo è già successo sino a 20 chilometri dalla foce del Po nella siccitosa e torrida estate del 2022. Temperature più elevate significheranno una maggiore evaporazione, asciugando ulteriormente la vegetazione e i suoli e causando enormi perdite dai bacini idrici. È fin troppo facile poi farsi un quadro oggettivo di quello che potrebbe accadere in Africa. Nessuno potrà più chiedere aiuti agli altri, perché persino gli Stati Uniti avranno problemi di sopravvivenza. Man mano che sulle montagne rocciose scompariranno nevi e ghiacciai, le città e le fattorie dell'Ovest perderanno la loro acqua e le foreste e le praterie ormai arigre e rinsecchite bruceranno alla prima scintilla. Il subcontinente indiano nel frattempo sarà soffocato dalla polvere. Tutta la storia umana mostra che se c'è da scegliere fra restare ma con la certezza di morire di fame e spostarsi, la gente sceglie di spostarsi a qualunque costo. È cronaca di tutti i giorni, lo vediamo al telegiornale. E mentre la terraferma si inaridirà e brucerà, il mare continuerà a crescere perché anche secondo il calcolo più ottimistico, con tre gradi in media di riscaldamento globale, l'80% del ghiaccio marino artico scomparirà e il resto lo seguirà a breve. Ovunque le persone affamate si muoveranno disperate, dall'America centrale al Messico e agli Stati Uniti e dall'Africa all'Europa, molto più di quanto accade oggi. Possibilità di evitare tre gradi di riscaldamento globale? Scarsa se l'aumento sale a due gradi e innesca il devastante effetto dell'emissione continua di carbonio da suoli e piante. Fra tre e quattro gradi di riscaldamento, il flusso migratorio includerà ora coloro che fuggono dalle coste verso l'interno e saranno milioni quando le tempeste colpiranno. Dove invece si ostineranno a restare, le città costiere diventeranno isole fortificate. Intanto i livelli del mare si più, perché entrambi i poli si scioglieranno causando un probabile innalzamento dei mari fino a 50 metri in più rispetto al livello attuale. Non sarà uno scioglimento istantaneo, ma potrebbe produrre aumenti del livello del mare di circa un metro ogni vent'anni, quindi ben oltre la nostra capacità di adattamento. Uno dei paesi che andrà più in crisi sarà la Cina. Entro il 2035, in cui stimano gli scienziati, se il suo stile di vita sarà sempre più simile a quello americano, consumerà i due terzi dell'intero raccolto globale e brucerà 100 milioni di barile di petrolio al giorno, ovvero il 125% dell'attuale produzione mondiale. Una prospettiva che, da sola, contiene tutti gli ingredienti della catastrofe. Su gran parte del pianeta la fame diventerà per tutti uno spauracchio quotidiano. E non sarà l'unico. L'estate si allungherà sempre più e, poiché le temperature si faranno sempre più alte, le foreste diventeranno luoghi dove cercare nutrimento, mentre le città diventeranno ambienti lugubri e bollenti. Le temperature nelle aree urbane, infatti, potrebbero raggiungere facilmente i 45 gradi centigradi e più, l'equivalente del clima estivo attuale di Marrakesh. L'aria condizionata sarà obbligatoria per chiunque vorrà cercare un po' di refrigerio, ma l'energia necessaria a produrla manderà ancora più in crisi i sistemi produttivi, perché, se le fonti idroelettriche diminuissero e le energie rinnovabili non riuscissero a colmare il rallentamento della produzione dell'idroelettrico, le centrali elettriche a carbone e a gas dovranno funzionare a ritmo serrato, finendo per riversare nell'aria sempre più gas-serra. Intanto, il forzato abbandono delle aree mediterranee sovraffollerà le già intasate aree rifugio del nord Europa, come i paesi del Baltico, la Scandinavia e la Gran Bretagna. A tutto questo farà seguito un altro esito negativo legato all'innalzamento della temperatura, il progressivo scioglimento dei terreni delle aree circumporale permanentemente gelate, in altre parole lo scongelamento del permafrost all'altezza del circolo polare artico e oltre. Gli scienziati ritengono che almeno 500 miliardi di tonnellate di carbonio stiano aspettando di essere liberati dal ghiaccio delle tundre artiche, anche se nessuno riesce ancora a calcolare quanto ciò comporterà in termini di ulteriore riscaldamento globale. Un grado? Due? E se fossero invece tre? Le previsioni non sono comunque rosee, anzi. Possibilità di evitare 4 gradi di riscaldamento globale? Scarsa se l'ascesa raggiunge i 3 gradi e innesca il disgelo del permafrost con la conseguente fuga di metano. Tra 4 e 5 gradi di riscaldamento. Ora stiamo guardando un pianeta completamente diverso. Le calotte glaciali sono svanite su entrambi i poli, le foreste pluviali, bruciate, si sono trasformate in deserti, le Alpi secche e senza vita somigliano all'Alto Atlante, i mari in aumento stanno penetrando in profondità all'interno dei continenti. Una tentazione potrebbe essere quella di spostare le popolazioni delle aree aride alle regioni appena scongelate dell'estremo nord, in Canada, in Siberia. Anche qui tuttavia le stati potrebbero essere troppo calde per coltivare lontano dalle coste. Inoltre non vi è alcuna garanzia che i governi delle aree situate nell'emisfero settentrionale accetteranno i rifugiati del sud. Siberia e Canada potrebbero essere invasi rispettivamente da Cina e Stati Uniti. Qualsiasi conflitto armato, in particolare con armi nucleari, aumenterebbe ulteriormente la superficie planetaria inabitabile. Quando, all'inizio delle Ocene, 55 milioni di anni fa, a seguito di un improvviso riscaldamento globale le temperature raggiunsero un simile livello, alligatori e altre specie subtropicali vivevano in quelle che oggi sono le terre artiche. Cosa aveva causato il ribaltamento del clima? Probabilmente l'idrato di metano, cioè una combinazione di metano e acqua simile al ghiaccio che si forma sotto superfici molto fredde o sotto le pressioni del mare, negli abissi oceanici. L'idrato di metano sfugge con forza esplosiva quando viene, diciamo così, svegliato. Nelle Ocene, il metano intrappolato nelle profondità, ricordiamo che il metano è un gas serra 20 volte più potente del biossido di carbonio, venne rilasciato in una sorta di gigantesco rutto che spinse in alto le temperature globali. Sebbene la quantità totale di carbonio nell'atmosfera durante il massimo termico del Paleocene e Ocene, o PETM come viene chiamato dalla comunità scientifica, sebbene fosse più di alto di oggi, il tasso di aumento nel ventunesimo secolo potrebbe essere 30 volte più veloce. Potrebbe essere addirittura l'aumento più veloce che il mondo abbia mai visto, più veloce ancora degli episodi che hanno causato estinzioni di massa. Nel mondo a 5 gradi sopra la media la globalizzazione non esisterà più. Esisterà, al contrario, il campanilismo estremo nel senso che le singole comunità dovranno accontentarsi di ciò che riusciranno a produrre dalle poche terre ancora sfruttabili nei dintorni. L'economia andrà in tilt perché i clienti non avranno nulla da acquistare dal momento che i produttori non avranno nulla da vendere. Senza aiuti internazionali i migranti dovranno farsi strada fra le poche enclavi abitabili rimaste e lottare per sopravvivere. Dove non c'è un rifugio, la guerra civile e il crollo in un conflitto razziale o comunitario sembra l'esito più probabile. Il survivalismo isolato appare una soluzione improbabile. Quanti di noi, infatti, sarebbero davvero in grado di intrappolare o uccidere abbastanza selvaggina da sfamare una famiglia. E poi, anche se un gran numero di persone riuscisse a battere con successo la campagna, la poca campagna rimasta, le popolazioni di animali selvatici si ridurrebbero rapidamente sotto una pressione eccessiva. Per sostenere uno stile di vita da cacciatore e raccoglitore, ci vuole da 10 a 100 volte più terra a persona di quanta ne serva a una comunità agricola stanziale. Un ricorso su larga scala al survivalismo si trasformerebbe in ulteriore disastro per la biodiversità, perché gli esseri umani affamati ucciderebbero e mangerebbero qualsiasi cosa si muovesse, compresi, forse, altri esseri umani. Possibilità di evitare 5 gradi di riscaldamento globale? Irrisorie se l'aumento raggiunge i 4 gradi e avviene il rilascio di metano intrappolato dal fondo del mare. E veniamo a tra 5 e 6 gradi di riscaldamento. Per trovare una temperatura superiore di 5-6 gradi all'attuale, dobbiamo far tornare indietro l'orologio geologico alla fine del Permiano, 251 milioni di anni fa, quando la temperatura globale aumentò di 6 gradi e il 95% delle specie viventi venne spazzato via. Quell'episodio climatico fu il peggiore mai sopportato dalla vita sulla Terra, quello durante il quale il pianeta arrivò più vicino a diventare una roccia morta ed esolante, vagante nello spazio. Sulla terraferma, gli unici a sopravvivere furono i funghi che vinsero sul clima prosperando sugli alberi e sugli arbusti morenti. In mare, invece, ci furono solo perdenti perché l'acqua calda è un killer. Meno ossigeno rende l'acqua stagnante e anossica. Tutte le forme di vita acquatiche che respirano ossigeno, dal plankton agli squali, finirono per morire soffocate. Anche l'acqua calda si espanse e il livello del mare si innalzò di 20 metri. I conseguenti super-uragani che si abbatterono sulle coste scatenarono inondazioni improvvise alle quali nessun essere vivente avrebbe potuto sopravvivere. Ma c'è di più. Sotto gli oceani, a 5-6 gradi di temperatura in più rispetto all'attuale, si risveglierebbe un altro mostro. Lo stesso che avrebbe portato una fine devastante al Paleocene quasi 200 milioni di anni dopo è che ancora oggi è in agguato l'idrato di metano. Immaginiamo che un piccolo disturbo sismico nelle profondità marine spinga verso l'alto una massa d'acqua satura di questo gas. Salendo, cominciano a comparire delle bolle mentre, in virtù della riduzione della pressione, il gas disciolto si espande proprio come succede quando si toglie troppo velocemente il tappo a una bibita gassata. Queste bolle rendono le particelle d'acqua sempre più leggere e accelerano la risalita del gas. Quando sale verso l'alto, raggiungendo la forza esplosiva, trascina l'acqua circostante con sé. In superficie l'acqua viene sparata per centinaia di metri nell'aria mentre il gas rilasciato, l'idrato di metano appunto, esplode nell'atmosfera. Le onde d'urto si propagano verso l'esterno in tutte le direzioni, innescando altre eruzioni di metano nelle vicinanze. A differenza dell'anidride carbonica, l'idrato di metano è infiammabile. Anche in presenza di concentrazioni di metano nell'aria di appena il 5%, la miscela può comunque infiammarsi a causa di un fulmine o di qualche scintilla e rigare il cielo con palle di fuoco che ricadrebbero poi al suolo. L'effetto sarebbe molto simile a quello degli esplosivi a combustibile aria usati da alcuni eserciti, le cosiddette bombe a vuoto, che incendiano le goccioline di carburante sopra un bersaglio e annientano tutto ciò che è vicino al punto di accensione. Gli esseri viventi, uomini in particolare, ai margini dell'esplosione di una bomba a vuoto subiscono lesioni interne, tra cui timpani che scoppiano, gravi commozioni cerebrali, polmoni e organi interni fratturati, cecità. Ma le bombe a vuoto sono semplici petardi a paragone con le nubi aria-metano provenienti da eruzioni oceaniche. Gli scienziati calcolano che potrebbero distruggere quasi completamente la vita terrestre. È stato stimato che una grande eruzione di questo genere in futuro potrebbe rilasciare energie equivalente a 108 megatonnellate di trinitrotoluene TNT, vale a dire centomila volte di più dell'intera riserva mondiale di armi nucleari. Il finale, un poco hollywoodiano ma plausibile, vede eruzioni di metano oceanico vicino a grandi centri abitati, spazzare i pochi esseri viventi rimasti in pochi giorni. Immaginate un'immane palla di fuoco in corsa verso una città come Londra o Tokyo. L'onda d'urto si propaga dal centro esplosivo con la velocità e la forza di una bomba atomica. Gli edifici vengono spianati, le persone incenerite all'istante lì dove si trovano o lasciate cieche e sorde dalla forza dell'esplosione. Poi? Poi arriverebbe l'idrogeno solforato degli oceani stagnanti. Un killer silenzioso ma definitivamente letale. Lo strato di ozono verrebbe lacerato. I raggi del sole brucerebbero irreversibilmente la pelle degli ultimi esseri viventi sopravvissuti e le prime mutazioni cellulari innescherebbero epidemie di cancro. L'inferno di Dante a questo punto sarebbe diventato realtà, la peggiore realtà ipotizzabile. Ecco, il testo di Behrens termina qui. Lasciando la mare in bocca è un senso indefinibile di angoscia. Ma veramente stiamo affidando ai nostri figli e ai nostri nipoti un pianeta in agonia? Beh, se non proprio in agonia, messo male, certamente sì. Personalmente non credo che la soluzione potrà avvenire in tempi brevi dalla politica internazionale. Ho poca fiducia. Le prospettive e le attese economiche di sviluppo sono troppo diverse da un paese all'altro, troppo diverse da un continente all'altro. Confido però nella scienza. Solo gli scienziati, a ben vedere, possono trovare soluzioni o almeno rimedi tampone in grado di scongiurare o rallentare questa folle corsa verso l'estinzione di massa. Nel frattempo anche noi, nel nostro piccolo, possiamo fare qualcosa. Ma di questo parleremo in una conversazione successiva. Anche perché intorno a questo tema non si possono fare orecchie da mercante. E io non le voglio fare. Alla prossima, Popolo Arrampicante! Per riascoltare le conversazioni al Popolo Arrampicante quando vuoi tu, la nostra pagina podcast è sempre a tua disposizione. Appuntamento alla prossima puntata.